Tutto rimandato alla Corte Costituzionale. Così il Tribunale di Milano ha deciso che il processo che vede imputato il leader radicale Marco Cappato, accusato di aver accompagnato il 39enne Fabiano Antoniani lungo un percorso di suicidio assistito, meriti l'approfondimento della consulta. Una decisione che in qualche modo avvicina il tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni all'obiettivo di una sentenza nel merito della costituzionalità di una legge, quella di istigazione e aiuto al suicidio, che fu codificata quasi un secolo fa. Quello a cui puntiamo è quello che abbiamo chiesto, anche con gli avvocati, con la mia difesa eccetera, cioè che ci sia una soluzione sulla base della incostituzionalità del codice penale del 1930 nel non fare differenza sulla situazione che riguarda un malato sottoposto a sofferenze insopportabili ed irreversibili. Un'ordinanza, quella del Tribunale di Milano, la cui lettura ha richiesto oltre un'ora. Assolto dall'accusa di aver rafforzato i propositi suicidiari di Fabio Antoniani, Cappato resta ora accusato di averlo agevolato. Secondo il leader dell'Associazione Radicale Coscioni, l'eventuale giudizio di incostituzionalità della legge che lo ha portato in tribunale aprirebbe nuovi scenari nella battaglia per la legalizzazione dell'eutanasia. Quello che manca è il diritto per persone che non sono attaccate a delle macchine e che quindi non hanno la possibilità di morire attraverso l'interruzione delle terapie, ma che hanno bisogno di una sostanza letale per poter morire, di poterlo fare. Stiamo parlando per esempio dei malati di cancro. Al momento in Europa soltanto Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo consentono di sottoporsi legalmente a percorsi di suicidio assistito. In Italia, lo scorso dicembre, il caso Cappato si è rivelato determinante per l'approvazione della discussa legge sul Biotestamento, ma l'esponente radicale mira la creazione di una norma che consenta a chi sia soggetto a sofferenze gravi e irreversibili di scegliere volontariamente di porre fine alla propria vita.